Si svolgerà domani 1 giugno a Teramo alle ore 16.30 nella centralissima piazza Martiri l'assemblea pubblica organizzata dallo sportello sociale e dall'unione sindacale di base a sostegno degli sfollati teramani. Un appuntamento che rappresenta un'occasione per capire a che punto è la ricostruzione teramana, soprattutto perché sarà fatto alla presenza della politica locale, amministratori e ater. Saranno numerosi gli argomenti che verranno trattati in assemblea, come il bando per l'assegnazione degli appartamenti della regione, del contributo per l'autonoma sistemazione agli sfollati e delle iniziative sociali da mettere in campo per tenere alta l'attenzione sul tema. Sono passati tre anni, quasi quattro, e attualmente non è partito un solo cantiere. C'è stato soltanto un intervento tampone, a quanto discutibile, da parte della regione Abruzzo, quindi di acquisto di case, che saranno destinate agli sfollati con metodi che non soddisfano nessuna esigenza. Quello che noi vogliamo domani è cercare di riportare la politica in piazza, quindi far confrontare coloro che sono chiamati alla ricostruzione e i cittadini che attendono delle risposte. Abbiamo molto probabilmente la presenza anche di qualche parlamentare, alcuni parlamentari e sicuramente del sindaco di Teramo e del commissario di ricostruzione Nicola Salini dell'Ater. Sicuramente avremo delle domande da fare e sicuramente vorremmo avere delle risposte da parte loro. Avremo altresì anche la presenza di alcuni sfollati del cratere, quindi che non sono terramani, che verranno a dare la propria testimonianza e anche la loro vicinanza e anche di alcuni terremotati aquilani che anche loro ci porteranno questa preziosa testimonianza. Parliamo in una massiccia presenza dei terramani, perché d'altronde questo non è un problema soltanto degli sfollati, questo è un problema di tutta quanta la città. Teramo da quattro anni si trova in una situazione quasi insostenibile, una morte, possiamo chiamarla così, quindi se Teramo vuole rinascere si deve stringere queste persone, non ci sono alternative, perché se domani saremo soltanto noi e gli sfollati probabilmente il problema continuerà. Qualora non avremo risposte ci rimobiliteremo nuovamente.